ciao a tutti bentornati oggi porteremo un dolce le fragole al cioccolato è una ricetta facile e rapida ma è molto utile perché sia frutta che dolce quindi che siate golosi di dolci come cibo preferito o di frutta potete usarla in uguale misura andiamo al bancone di lavoro e mettiamo semplicemente cioccolato fondente e fragola ed ecco che avremo le nostre fragole al cioccolato che come mi dicevo sono sia frutta che dolce e possono soddisfare il vostro palato di amanti della frutta amanti del dolce una nota sul cioccolato fondente potete anche ricavarlo unendo tre unità di cacao bollite nell'acqua della pentola però è più economico comprarlo già fatto perché il prezzo è più basso di pochissimo del costo dell'acqua ma se c'è già pronto perché farlo da noi non lavorate a purissima e vi farmiate il cacao da soli ma vediamo questa cosa e parliamo per tutti quanti detto questo vi saluto spero che la ricetta vi sia piaciuta iscrivetevi al canale cliccare sulla campanellina ciao ciao